è tardi, ho fatto tardi un'altra volta, via ma c'è l'amore aspetta non posso aspettare no ma guarda cosa ti ho preparato amore ho capito guarda che bello il salame il vino, le banane, il rigatino, il pane a pescare verrà fame vado a pescare e non fa una comunione ma l'ho preso anche per i tuoi amici ascolta, tieni amore, sei contento? sì però cosa c'è? mi illudi? cosa c'è? non devo mica fare la dieta ascolta, ti volevo dire, te lo do volentieri questa cosa qui che ho preparato però non c'è, ti devo fare una domanda cosa c'è? senti ma a giugno non si fa nulla ai nostri clienti non lo sapevo, ma che dico, me l'aspettavo tanto te senti recatto con il salame e biscottini ciccilla, cosa vorresti che facessi? dimmelo, dimmelo guarda che per il premio che ti aspetta a settembre mi accontenti dimmelo, cosa vorrei guarda, a aprile si è fatto lo sconto da donna per il lancio del nuovo reparto a maggio si è fatto il grande successo del bambino come sono contenta a giugno e ormai siamo alle porte del sassi cosa si deve fare? ah, ma così si deve fare guarda là che parete di Nike bella che c'è che ti dice guarda che sono arrivati ora e devono sempre arrivare le Nike le boi a questo cestino pieno di modifici ho capito, io più chiaro voglio andare guarda là, guarda là voglio andare a pescare con i miei amici succo di frutta non mi regge qui baguette, mortadelline, salamini si fa un 20% di sconto sulla Nike alla casa per tutto giugno uomo e donna Silvia uomo e donna Silvia, si parla di Nike, i modelli nuovi senti il profumo Silvia, si parla di Nike, i modelli nuovi non di quelli della scorsa stagione o come sono modelli arrivati ora che dai un morsino devono sempre arrivare si lo so ma se non si fanno perché continuano ad arrivare non è che sono modelli arrivati a gennaio ma se non si fanno noi che siamo chi è che c'è tutta questa parete di Nike? chi? oltre che il bottegone a calzatura? nessuno mi mandi poi a pescare ti mando a pescare con tutto questo ben di Dio e non ti te l'è allora quindi per 5 minuti in giugno in giugno sconto del 20% alla cassa di cosa? su tutta la Nike uomo e donna su tutto questo padiglione di scarpe Nike novità tutto da un shift poi guarda dai modelli più semplici da tutti i giorni comodissimi adatti anche a a delle persone che camminano sulle d'arte con una certa difficoltà fino a modelli modaioli sì tipo Line Max eccetera anche le Fusion poi mi piace tanto la Force sì certo ti piacciono anche ai clienti gli piacciono lo sconto del 20% no la Caishi la Caishi poi sì la Air Max in vari la Air Max la Command la Trax insomma e poi anche quelle da donna e questo qui il 20% di sconto è la cassa da nostri prezzi sconto 20% a giugno uomo e donna non sono io che vado a pescare ma i clienti vengono a pescare l'occasione a bottegone perché non c'è solo questo sconto qui in giugno che glielo fai te glielo facciamo sì in giugno ci sono tante altre promozioni ci sono tante altre promozioni in giro da donna da uomo venite perché ci sono tante promozioni in giugno siamo aperti anche la domenica 7, 14, 21, 28 e il pomeriggio dalle 16 alle 20 orario di negozio tutti i giorni dalle 9 alle 13 dalle 16 alle 20 la domenica aperti solo il pomeriggio dalle 16 alle 20 e allora mi accontenti si fa anche questa grande promozione cosa devo fare poi e mi prendi la Nike a tradimento mentre sono andando via la scarpa da tennis più diciamo chi è che non la conosce la Nike tutti ma il mio nonno la conosce la Nike le conoscono tutte le persone anziane le persone giovani la Nike la conoscono tutte tutti la vogliono calzare e da noi al bottegone che siamo un po' citrulli si fa il bottegone alla cassa il 20% di sconto su tutta la Nike uomo e donna e siccome Marcello mi ha accontentato io lo mando a pesca delle scarpe moda arrivate adesso io vedo delle scarpe moda arrivate adesso adesso e dovranno arrivare anche altri colori si sta girando a trasmissione a inizio mese dovranno arrivare anche tricolori anche lì ci sarà lo sconto del 20% quindi prendete metterlo in tasca andate via contento e venite a pescare l'occasione te vai a pescare il pesce sconta mettete il cappello così ti do il panerino e te lo sei dedicato te lo sei dedicato quindi avete capito bene in giugno ma solo a giugno e solo al bottegone sconto del 20% alla cassa su tutti i prodotti Nike uomo e donna venite perché ce ne sono veramente tanti tanti ne devono sempre arrivare anche lì ci sarà lo sconto fino all'erimento scorte ci sarà lo sconto del 20% su modelli Nike da uomo e da donna ma solo al bottegone e solo nel mese di giugno siamo aperti anche la domenica il pomeriggio dalle 16 alle 20 Silvia poi di occasione in giro venite a pescare di occasione al bottegone posso andare ora ma la Nike lo ha sconto ma dove la trovate posso andare? andiamo anche questa volta mi hai storto lo sconto qui questo è il negozio delle distorsioni degli sconti ma guarda che premio che c'hai vi aspettiamo che sempre numerosi vai a pescare non ti telefono per 5 minuti vai amore vai a riposarti ne hai bisogno sempre a pentare le scarpe dopo questo stress mi ha dato sempre a pentare le scarpe via ciao rilassati amore grazie